Amici di Android Blog, siamo allo stand Oppo del Mobile World Congress 2014 di Barcellona. Purtroppo nessuna novità presentata, facciamo un rapido tour dello stand con i terminali Oppo R1 con queste caratteristiche, Oppo 819 e da questa parte troviamo l'Oppo Find 5 e l'Oppo N1, terminali che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli scorsi mesi e che sono approdati anche sullo store europeo della casa cinese. Purtroppo nessuna traccia di Oppo Find 7 che sarebbe stato davvero la novità di questo Mobile World Congress ma che purtroppo verrà presentato, ci hanno detto, tra circa un mese, forse di più. Per lo stand Oppo di questo breve tour è tutto, per Androidblog.it un saluto da Alessio.